Allora, questa è l'ultima sessione del corso 2021-01-13, quindi è il coaching fundamental. La cosa più importante è che è il primo coaching fundamental in italiano di Solutions Academy. Abbiamo iniziato il 13 gennaio, quindi stiamo finendo praticamente oggi che è 30 giugno. Io innanzitutto ringrazio tutti voi per la disponibilità che avete dato a registrare, così, vostra piccola testimonianza rispetto a questo corso. La testimonianza è semplicemente diretta a raccontare qualcosa, evidentemente, che vi è particolarmente piaciuta di questo corso a tutti coloro che stanno decidendo di voler far parte di questo corso. Quindi, chi vuole iniziare a raccontare? Rimaniamo su un minuto massimo per ognuno di voi. Chi inizia? Vado io, Carlo. Vai, Alessandra. Allora, il corso che stiamo finendo oggi ha portato nella mia vita lavorativa e nella mia vita personale decisamente a molti cambiamenti. È uno strumento utile. Ho trovato un ambiente favorevole per la crescita personale e professionale e mi porterò questo periodo sempre con me, anche nei momenti in cui uno ha qualche difficoltà e ha bisogno di qualche strumentino in più. Grazie ai formatori che sono stati speciali e grazie ai colleghi che mi hanno sempre supportata. Grazie. Grazie mille, Ale. Grazie. Ok, chi altro? Posso fare io? Elena, vai. Sì, allora, io avevo fatto una grande ricerca prima di iscrivermi a questo corso e quello che mi aveva colpito era che la rappresentazione era veramente molto chiara, rendeva tutto molto semplice e sinteticamente dava le informazioni di cui avevo bisogno. E il corso è stato esattamente nello stesso modo, cioè molta chiarezza proprio di quello che mi serviva, no? E quindi in questo l'ho trovato veramente fantastico. Poi avevo fatto una ricerca anche con altri corsi e per una serie di motivi mi sembrava molto user friendly, non so come si può dire. Quindi a livello pratico è abbastanza facile da seguire tutto. Poi quello che mi ha colpito è il gruppo veramente bello di persone di background diversi così e molto umili, quindi persone con cui puoi anche permetterti di sbagliare, che non succede nulla. E poi i formatori fantastici. Grazie Milena, grazie. Ok, chi altro? Chi altro? Carmen, sì, ok, ho tutte le prenotazioni. Vai Carmen. Ok, per me questo corso è stato sicuramente un percorso di apprendimento e di grande crescita. Devo dire che ho acquisito tool di cambiamento per me stesso sicuramente e quelli che sono dei tool di cambiamento importantissimi secondo me nella vita professionale. Quindi tanta pratica, tanti sbagli, anche riuscire ad adeguarsi nei momenti di avversità anche con il coachee. Quindi è veramente sempre un grande tool, un grande strumento, vulnerabilità perché io ho sentito anche di essere vulnerabile perché appunto nel processo di crescita questo è stato qualcosa che ho appreso. Tanta pazienza e appunto una grande comunità che è quella dei colleghi che sono stati sempre molto diciamo di sostegno e di aiuto e di grande compagnia peraltro e di grande condivisione di esperienze. Quindi ringrazio tutti per aver condiviso le esperienze diverse e anche i formatori che sono stati eccezionali nelle spiegazioni, nella pazienza e nella tranquillità diciamo e a metterci proprio per averci messo a proprio agio. Grazie mille. A te Carmen, grazie mille. Giovanna, vai. Il corso è molto molto interessante, i formatori Carlo e Chris sono veramente bravi e molto professionali e anche il gruppo è stato bellissimo, ho imparato tanto soprattutto il metodo del Solution Focus e anche gli strumenti di questa metodologia. Il corso mi ha dato tanta possibilità di crescere anche personalmente e grazie per tutto, è una delle cose più belle della mia vita. È così. Grazie, grazie Giù, grazie mille. Mister Carl, vai. Grazie Carlo. Allora, se io dovessi parlare al Cal proprio all'inizio di questa avventura e dovessi dirgli per quale ragione dovresti fare questo corso, gli darei tre ragioni. Il cosa, il come e il con chi lo fai. Il metodo è, non lo conoscevo, mi è piaciuto molto, non l'avevo approfondito, lo conoscevo di nuovo, l'avevo visto un po', però approfondendolo mi piace quanto sia focalizzato sulla soluzione, quindi quanto sia in grado di generare una soluzione, il tutto all'interno di un processo molto etico, molto attento a lasciare al coachee in modo che il processo sia suo. E questa attenzione per me era molto importante, era una cosa che ricercavo in qualsiasi tipo di coaching che facevo, quindi mi piace il fatto di averla ritrovata all'interno di questo spazio e il fatto che comunque il metodo sia appunto focalizzato sulla soluzione. Così come il come, perché le serate che abbiamo passato del corso erano molto esperienziali, il fatto che ogni scusa era buona da parte di Carlo e Chris per rigirarci la palla e fare comunque un'applicazione pratica, anche focalizzata sulla soluzione, quella di fare arrivare a noi corsisti alla soluzione di quello che erano i nostri obiettivi nelle diverse serate che abbiamo passato, quindi è anche una metodologia molto esperienziale, molto coinvolgente. Ovviamente se parlo dei formatori che sono stati così bravi non posso fare a meno di parlare della ricchezza che ho trovato rispetto ai colleghi con cui ho fatto il corso, quindi gli altri corsisti. Tutti veniamo da diverse esperienze, chi con più esperienze, chi con meno, però proprio questa differenza per me è stata una fonte di ricchezza e apprendimento. Quindi questa combo del metodo, del come viene fatto, del cosa viene fatto, con chi l'ho fatto, è proprio un'ottima ragione anche per poterlo rifare. Quindi grazie mille a tutti quanti. Grazie a te Cal, grazie mille. Chi altro? Chi altro? Allora vado io. Come vuoi Angelo? Vado io. Prego Paola. Va bene. Grazie. Allora, quando ho iniziato questo corso di coaching non sapevo assolutamente nulla del coaching perché non è la mia, la professione che svolgo nella mia vita. Io ho vissuto questo percorso un po' come una scalata e quello che mi ha colpito è che è stata una scalata senza alcuna fatica. Perché? Perché intanto perché c'è stata la possibilità all'interno del corso di avere uno spazio proprio, nonostante la presenza ovviamente di più persone, che ha consentito, che mi ha consentito di fare pratica, fare una pratica importante prima di tutto su me stessa e in un secondo momento sugli altri. È stata importante la partecipazione degli altri compagni di viaggio che hanno arricchito la mia vita personale e anche professionale, ma soprattutto quello che ho apprezzato di questo corso è stata la grande professionalità con la quale i docenti lo hanno condotto e la possibilità di mettere da subito in pratica tutto quello che ci veniva spiegato. Questo non è un aspetto banale perché il corso lo abbiamo fatto interamente online, quindi non abbiamo mai avuto l'occasione di incontrarci in presenza, ma ogni incontro era come se di fatto lo stessimo vivendo così, perché è veramente stato dato a tutti la possibilità di fare una grande esperienza formativa che sono sicura, insomma, mi porterò dietro e mi potrà aprire presso una strada nel futuro. Quindi grazie a tutti quanti. Grazie, grazie Paola, grazie mille. Angelo. Bene, allora io intanto inizio dicendo che avevo già avuto modo di conoscere Solution Focus e mi era piaciuto moltissimo in un corso intensivo e quindi questo mi attraeva. La soddisfazione di vedere che dopo 24 incontri, quindi non più intensivo, ma estremamente anche complessivo, non tradisce, anzi è un grande sistema, secondo me è decisamente molto avanti rispetto a tanti altri che ci sono, dove pur rispettando i tempi del Coci, eccetera, riesce a metterlo al centro con un'ottica non problematica, ma veramente orientata alla soluzione, molto efficace. aggiungo che avevo anche la fortuna di conoscere Carlo, che ovviamente era una garanzia, ma ho scoperto che Chris è degno gemello e in più non è banale, non mi hanno tradito. Siccome so che sono parecchio esigente, il fatto che non abbiate tradito le aspettative è una grande garanzia. auguro a tutti gli altri di conoscervi e sperimentarvi di persona. Grazie, grazie Angelo. Chi è il prossimo? Posso? Gianluca, vai, vai Gianluca. Scusa, ho rubato un tempo a Gabriele, ho fatto prima io col dito. Un corso pratico, molto concreto, veramente ben guidato e ben facilitato. Temo che la parola corso non renda però bene l'idea, perché è stato un percorso di gruppo, ma anche individuale e anche di sottogruppo, perché credo che uno dei valori veramente aggiunti sia stato il lavorare anche nei peer group, quindi che hanno fatto parte integrante del processo di apprendimento. è una bella esperienza da fare e da rifare anche per chi pratica coaching da alcuni anni, perché è una metodologia veramente molto snella, molto agile e potente. Grazie mille Gianluca. Gabriella. Eccomi. Allora, io venendo dal mondo dello sport avevo sempre sentito parlare di coaching, ma mai in un contesto diverso. Ho fatto uno o due incontri con Carlo precedentemente, perché volevo avere qualche informazione in più, ma pur sentendomi un pesce fuor d'acqua, soprattutto all'inizio, quando ho iniziato il corso, confesso che la sensazione è svanita, penso, già dopo la seconda lezione. Ho trovato un gruppo di persone disponibili, aperte, mi sono trovata subito in confidenza, come se fossi in famiglia, mai giudicata, nemmeno quando magari avevo timore di esprimere il mio pensiero. Quindi, oltre alla certificazione, oltre ad aprirmi una strada in un contesto diverso da cui provengo, ho trovato molto, molto, molto di più di quello che mi potessi aspettare. Quindi, aggiungo a questo il fatto di averlo iniziato in un contesto che penso non abbia mai vissuto nessuno, come quello della pandemia, e quindi è stato di un ulteriore aiuto condividere il mercoledì con voi, due ore e mai risultate pesanti, e per quello che riguarda il corso proprio nel suo essere, è semplice, pratico, che per chi viene dal mondo dello sport si sa che la praticità è tutto, e ti permette veramente di apprendere in maniera molto, molto, molto rapida. In più, non ci siamo mai sentiti soli, perché abbiamo avuto due trainer che sono stati sempre a nostra disposizione. Quindi, lo consiglio a tutti. Grazie mille, Gabriella. Angela? Allora, cosa dire alla fine? Alla fine dico che è stato un bellissimo regalo, lo consiglio a tutti, un'esperienza che forse all'inizio può sembrare lunga. leggere una data di inizio e una data fine, un corso fatto su 24 settimane, forse all'inizio può spaventare. Invece vi dico che, insomma, come avete sentito anche dagli altri, è stata veramente una volata. Tutto molto fluido, bello, ricco, ricco di emozioni, ricco di esperienze, ricco di condivisione, ecco. Ne esci veramente arricchita, motivata, e sicuramente con un qualcosa in più che prima non avevi. Quindi, fatelo, iscrivetevi, provate, fatelo. Grazie. Grazie mille, Angela. Grazie a tutti. Non dovrei aver dimenticato nessuno. Spero che le vostre parole possano aiutare chi è lì a prendere una decisione, per magari farsi un po' avanti. Ringrazio ancora tutti e a prestissimo. Grazie.